Produrre rispettando l'ambiente, cercando di contenere le emissioni e permettendo agli agricoltori di avere costi inferiori. Sono gli obiettivi dell'agricoltura conservativa o agricoltura blu, una tecnica presente da decenni e largamente diffusa oltreoceano che in Europa e in particolare in Italia fatica ad affermarsi. Insieme all'agricoltura 4.0 è forse l'unica strada che si potrà intraprendere per soddisfare le esigenze del futuro. Nelle campagne ferraresi è stata organizzata una simulazione per mostrare agli imprenditori il funzionamento di nuove attrezzature presenti sul mercato. Questa è la prima prova in campo, abbiamo fatto prima delle conferenze informative per avvicinare agli agricoltori a questa nuova tecnica. Questo ci permette di vedere in campo le seminatrici, di capire i processi, di capire che questo sistema aumenta la sostanza organica, cattura il CO2 e diminuisce i costi. Vietato l'utilizzo dei classici aratri che operano in profondità. Ciò permette un aumento della sostanza organica nei terreni e la capacità di mantenere intrappolata nel suolo l'anidride carbonica, contribuendo a mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Un'opportunità che concorre al raggiungimento del Green Deal europeo, il quale prevede entro il 2030 una riduzione del 55% delle emissioni dei gas a effetto serra per arrivare al 100% nel 2050. L'agricoltore si trova di fronte a questa grossa sfida, il rispetto delle emissioni, del contenimento delle stesse e dall'altra parte dobbiamo conservare o aumentare le capacità produttive dei nostri terreni per soddisfare un bisogno alimentare che è sempre maggiore.